Veniteci a trovare e unitevi al gruppo Telegram Fenix Dragon Ball Legends dove potrete parlare con noi del gioco e farvi aiutare sulla costruzione dei team e sulla risoluzione di tutti gli eventi. E salve a tutti leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy. Abbiamo fatto una votazione sulla community di Youtube, un sondaggio in cui chiedevo quale video portare oggi e l'avrei fatto scegliere a voi. Il video, quindi le opzioni erano o fare un'analisi team list oppure portare l'analisi di Great Simon 1 insieme all'analisi della ROD. E io vi ringrazio tantissimo, sono state scelte, sono state votate più di 120, cioè avete votato più di 120 volte e il risultato è stato appunto l'analisi di Great Simon. Quindi oggi portiamo l'analisi di Great Simon, ma in più una grandissima, enorme news a fine video, quindi ragazzi non perdetevelo assolutamente. Andiamo a parlare subito di Great Simon. Great Simon è un personaggio Rengue Type Viola che è stato aggiunto come personaggio farmabile della nuova ROD. Quindi un personaggio che possiamo ottenere tutti semplicemente ammazzandoci di ore di gioco su questa ROD. Andiamo subito a vederlo. Allora, principalmente è un personaggio che attualmente lo vediamo con statistiche base, diciamo a livello di percentuale le statistiche sono base, livello 1500, però quello che ci interessa sono più che altro le ability. Il personaggio di per sé ha delle statistiche, come vedrete anche più avanti, probabilmente se lo porterete sempre in più con le stelle percentuale, anche per prendervi le vostre ricompense in crono ogni volta che lo sbloccate di classe o comunque gli aumentate la percentuale di Sol Boost, è un personaggio che ha statistiche non estremamente alte, anche per quanto riguarda il suo punto forte, ossia le Blast, è in una posizione sedicesimo su tutte le SP o comunque su tutti i personaggi. Andiamo a vedere il personaggio di per sé, quindi qua lasciamolo perdere per quanto riguarda le statistiche, non sono assolutamente veritiere, senza stelle con appunto livello 1500. Lui ha un episodio diverso da Great Saiyan 2 Videl, quindi, perché Videl è episodio Saga from the Movies, mentre lui invece è Majin Buu Saga Z, quindi sono due personaggi che vengono da due mondi, diciamo, diversi. Buono si porta due Blast Art, quindi una probabilità di pescare maggiori carte del suo punto forte, e ha parecchi tag, sono Hybrid Saiyan, ovviamente perché è giocabile anche lì, in carenza di personaggi, Zone Family, Legends Road, ovvio, e Transforming Warrior, un tag che nei prossimi giorni, se otterrà maggior rilevanza, andremo a, diciamo, a spenderci due parole, perché questo tag sta prendendo piede. Quindi, Ranged Viola, Strike e Blast sono assolutamente normali. Per quanto riguarda invece la special move, può essere anche insegnata a Shallot, colpisce tutta la striscia centrale ed è bellissimo il raggetto, che, diciamo, stordisce l'avversario, che non ci capisce nulla, appare alle spalle, in alto, e spara una Kamehameha mostruosa. Quindi recupera il proprio Vanishing Gauge del 20%, quindi la barra rossa del personaggio quando facciamo il teletrasporto, quindi il Vanishing, sì, una volta che abbiamo colpito l'avversario, viene recuperata del 20%, quindi recuperiamo un quinto del nostro teletrasporto. Potrebbe essere ottimo come recupero. Per quanto riguarda invece la special skill, quindi ricordo, da oggi in poi, probabilmente, ogni volta che me lo ricordo, lo dirò sempre. La special skill è equivale alla Quirk Art, Quirk Skill, quella che noi vediamo nelle missioni come scritto Quirk Skill. Diciamo che a random pesca una nuova carta, quindi ci permette di pescare una nuova carta in maniera totalmente casuale, e riduce il ki dell'avversario di 35, e questo è veramente ottimo, considerando che costa 10 come special skill, quindi è molto molto utilizzabile, e non deve colpire l'avversario. Quindi l'attiviamo, come vedete il quadrato è trasparente, vuol dire che, o meglio grigio, vuol dire che non deve colpire l'avversario. È davvero molto interessante. Per quanto riguarda l'ability, invece, in main ability abbiamo pesca una special move come carta, recupera il proprio ki di 50, quindi in teoria abbiamo una special move potenzialmente gratuita, abbiamo il più 30% di danno inflitto per 20 secondi, quindi abbiamo una special move totalmente gratuita, che ci può fare potenzialmente il 30% di danno in più. E poi potenzia l'utilizzo della successiva special move, una volta attivata questa main ability, e si ha il 35% di infliggere feint ogni volta, quindi feint sarebbe quella specie di svenimento che lascia l'avversario immobile per qualche secondo. E non è possibile cancellarlo, quindi ogni volta che, diciamo, Gohan farà la main ability, la successiva special move che farà avrà il 35% di infliggere feint. In più abbiamo un 30% di danno generico per 20 secondi, quindi non è il 30% solo sulla special move, su qualsiasi mossa che andiamo a fare. Dopo 15 secondi, quindi, è possibile attivare la main ability. Per quanto riguarda Z-Ability, abbiamo una Z-Ability non proprio perfetta, perché essendo comunque un hybrid uno si potrebbe aspettare un tag hybrid, ma in realtà è comunque buono anche come Z-Ability per i viola. Abbiamo un Blast Attack per i viola o per la Legends Road, quindi il 22% di base, a tre stelle invece lo abbiamo al 24%. È veramente ottimo comunque come boost per essere un personaggio gratuito. Prima gli Unic Ability, più 15% di danno inflitto per alleato quando questo personaggio entra nel campo di battaglia. Molto semplice, lineare come boost. Più 15% di danno da Blast inflitto per tag Transforming Warrior alleato, oltre Great Siamen, quando entra nel campo di battaglia. Quindi, diciamo che abbiamo questo 15% per ogni alleato che abbiamo quando Gohan entra in campo, è un ulteriore 15% per ogni alleato Transforming Warrior, quando sempre Great Siamen 1, quindi quando sempre Gohan entra nel campo di battaglia. Quindi, ragazzi, è un boost abbastanza buono. Ovviamente va giocato sempre sul fatto che un team Transforming Warrior non è estremamente utilizzato, cioè un team completamente Transforming Warrior non è che sia una cosa estremamente utilizzata. Quindi, vabbè. Comunque, è un boost abbastanza buono per essere un personaggio che comunque le statistiche ce le ha discrete, niente di eccezionale, però è un personaggio gratuito che potenzialmente arriverà facilmente a 4 stelle. L'altra unique ability abbiamo, che viene applicato un effetto, quindi un buff, che dice che vengono annullati i downgrade, quindi i debuff che vengono fatti contro Great Siamen 1, vengono annullati fino a un massimo di 3 volte. Questo, ragazzi, è ottimo. Un debuff delle proprie condizioni normali è veramente ottimo, quindi viene annullato, quando la battaglia comincia. In più abbiamo un più 30% al proprio recupero ki per 15 secondi quando questo personaggio entra in campo di battaglia. Quindi più volte entra in campo di battaglia Great Siamen e più si potenzia, debuffa, quindi taglia i debuff verso di lui e quindi è un personaggio che veramente può assolutamente dire la sua perché comunque ha dei boost abbastanza interessanti, soprattutto per quanto riguarda la main ability. Poi, ragazzi, è un bel personaggio caratterizzato molto bene, ha dei movimenti davvero molto interessanti, lo sappiamo, questo è il punto forte di Dragon Ball Legends e quindi è davvero un bel, chiamiamolo, acquisto all'interno del gioco. Come potrebbe essere utilizzato questo personaggio? In realtà attualmente, Transforming Warrior, niente di estremamente interessante, si potrebbe utilizzare anche con Videl, ma ragazzi, non è un team competitivo, insomma, però potrebbe essere molto divertente. In team hybrid, ragazzi, non lo consiglio, minimamente c'è molto di meglio, già Ultimate Gone potrebbe essere più utilizzabile rispetto a lui o comunque anche l'attuale Pan potrebbe risultare assolutamente più utile. Se ci andiamo a spostare invece per quanto riguarda la rod, andiamo a vedere innanzitutto una cosa interessante, ossia la prima domanda che sorge spontanea, su quale rod concentrarsi? Allora, se noi andiamo a vedere le notizie in gioco, possiamo vedere che, diciamo, lentezza permettendo, possiamo andare a vedere che la rod di Great Siamen dura fino al 22 di maggio, dura fino al 22 di maggio e questo è un tempo davvero, davvero molto grande. Davvero molto grande, il personaggio ci è permesso ottenerlo fino a un massimo di tre stelle. Quindi, ragazzi, c'è tantissimo tempo e al momento la prima cosa che io vi consiglio di fare è finire la Legends Road di Trunks. Quindi fare il massimo, fare il più possibile, anche perché è davvero complicato, a meno che voi non refigliate energia e utilizzate tutti i vostri energy ticket, è davvero molto complicato. Si può fare, io ne ho fatti, ne ho usati una quarantina e sono riuscito a portarlo a quattro stelle abbastanza velocemente, ma per la quinta stella ci vuole tanto tempo, tant'è che io finirò, senza svenarmi ovviamente, utilizzare altri energy ticket, finirò la rod di Trunks in questi altri cinque giorni, quello di oggi già compreso, quindi in questi sei giorni e quello che riesco a fare faccio e poi mi riconcentro, mi concetto su Great Siamen, anche perché il tempo per portare Great Siamen a tre stelle c'è veramente, cioè c'è veramente tanto tempo per portarlo a tre stelle e quindi io consiglio prima di tutto di finire Trunks, se state sul pezzo, nel senso se lo avete, se lo state portando e se lo state già facendo. Se invece di Trunks non vi interessa niente, ed è un peccato perché è un personaggio che risulterebbe anche staple in Team Future, quindi potrebbe essere utilizzato in maniera fissa nel Team Future, lasciate perdere Trunks e prendetevi Great Siamen. E ripeto, non ve lo consiglio perché Trunks è un personaggio assolutamente utilizzabile in Team Future. Great Siamen è utilizzabile soltanto se vi manca tutto del Team Hybrid e quindi lo volete utilizzare. Per quanto riguarda la Rod, in questo caso, abbiamo nell'Exchange Shop, abbiamo appunto, vabbè, i soliti Zeta Power, che non vediamo perché il gioco carica l'infinito, abbiamo, diciamo, i Zeta Power soliti, Rising Soul e Super Soul. Insomma, quello che consiglio, come al solito, di fare è questo, acquistatevi e sbloccate Great Siamen con i Zeta Power, ne prendete appunto 1000 e vi sbloccate per la prima volta Great Siamen e lo portate appunto a 0 stelle, però l'avete sbloccato. Nel frattempo lo portate a livello 2000, cioè lo fate arrivare a livello 300 comprando le Rising Soul, quindi queste che vi sto indicando con il dito, per chi non lo sapesse ovviamente, e lo portate a livello 300. Dopodiché, acquistando le Super Souls, queste qui, lo fate di salire di classe e intanto vi prendete le prime 50 crono per ogni classe che gli sbloccate. Dopodiché lo riportate a livello 600 e rifate la stessa cosa, vedete quante Rising Soul e Super Soul vi servono e lo portate a livello 600, lo portate al 1000, 1500 e 2000. Una volta che lo avete a livello 2000 e tra virgolette volendo è utilizzabile in qualsiasi ambito, cominciate a dargli le prime stelle, quindi cominciate a farmare le medagliette, queste oro, bronzo e argento e gli sbloccate appunto, acquistate altri Zeta Power e gli sbloccate le varie stelle. Io opero così di solito per quanto riguarda le Rod. Poi, diciamo, altre cose utilizzabili potrebbero essere assolutamente le medaglie per acquistare gli equipaggiamenti che comunque costando molto poco vi permettono di provare più volte di trovare ovviamente l'equipaggiamento con varie pallette gialle, quindi gli equipaggiamenti che possano arrivare anche ad esse, perché questi sono i casi in cui tra virgolette definiamo gratuito un equipaggiamento, quindi proviamoci all'infinito. Per quanto riguarda invece la targhetta, io penso non ci sia il caso, non sia il caso di spendere inizialmente le monete d'oro per acquistare la targhetta, perché è una targhetta semplicemente estetica che non ha nessun tipo di, non ha nessun tipo di effetto a livello di statistiche, però ovviamente è una bellissima targhetta secondo me è una di quelle cose che vanno prese, io non riesco mai a prendere niente, non ho preso la spada di Tapion, non ho preso il fantasmino, non ho preso assolutamente nulla, quindi vabbè, non ho preso neanche il bastone di Goku, insomma, questo è. Per quanto riguarda i ticket, i ticket si potrebbero prendere, ma soltanto se state nelle prime fasi di gioco, magari per trovare qualche SP che vi serve, come ad esempio Bardak Super Saiyan, ma non lo consiglio comunque a nessuno di spendere per i ticket, a meno che come ultima risorsa totalmente. Cosa che è fondamentale è questa, se non avete, se giocate da poco comunque non avete tanti energy ticket, acquistateli prima di ogni cosa, prima ancora di comprare Gohan, quindi con queste qui, con le Z Power, prima ancora di acquistare queste, ve ne andate qua giù e vi acquistate gli energy ticket, sono 10 ticket per le monete bronzo e le monete di argento, quindi con solo le 30 monete di bronzo e 30 di argento vi acquisterete 20 energy ticket da 5 energie, quindi con ogni energy ticket vi ricaricate 5 energie che vi potrebbero essere comunque utili, in più anche gli skip ticket, queste sono assolutamente cose da acquistare. Poi con il resto, quando finirete la ROD, vi avanzeranno delle monete e io consiglio o di acquistare questa con le monete d'oro, quindi la targhetta se ci arrivate, se volete comunque qualcosa di estetico e di più bello o comunque con le altre monete rimaste io consiglio di acquistare sempre zeni perché sono sempre utili, ne siamo sempre accorto, a meno di chi non si spacca di PvP e quindi può utilizzare sempre l'adventure degli zeni e quello è un altro discorso. Quindi la ROD è strutturata in questo caso, in questo modo e questa volta i energy ticket, facevo caso, sono 10, ci diventi come nella ROD di Trunks. Quindi la costruzione del personaggio per me è sempre questa. La ROD è sempre in questo modo, battle 1, 2 e 3 rispettivamente monete di bronzo, argento, oro. X1, 2 e 3 rispettivamente monete di aspettate che non me lo ricordo mai, mi pare argento e bronzo, esatto, bronzo e argento dove vengono date più monete di bronzo e meno di argento. Nella battle 3 invece, scusa, battle 3 si incastra ogni volta perché ricomincia là. Nella battle 2 abbiamo argento e oro e nella battle 3 quindi nell'X3 abbiamo oro e bronzo. Io sto facendo questa perché questa volta voglio cambiare approccio, nel senso, ultimamente sto facendo sempre la X1 quindi bronzo e argento. Eccolo qui, faccio sempre così nelle ROD in modo tale che nel frattempo che farmo quelle di bronzo qualcosa di argento mi avanza e poi vado a risalire verso oro. Invece questa volta ricomincio dal contrario. Faccio prima oro e poi scendo fino a bronzo in modo tale che con l'oro io riesco a comprarmi anche la targhetta piano piano. Comunque potete approcciare come volete. Le battaglie non sono molto complicate. Il team che sto utilizzando io attualmente non è assolutamente questo ma è questo qua. Conco Super Saiyan 3 Caulifla e Broly Super Saiyan. Quindi le battaglie si fanno tranquillamente anche senza equipaggiamenti insomma non è necessario tantissimo quello. L'X Battle è la cosa interessante perché adesso non ce lo fa cliccare ma insomma la battaglia contro Mr. Stan e Videl a livello 2000 entrambi è abbastanza molto semplice più semplice anche di quella di diciamo di Gotenks e della roda di Gotenks e la cosa interessante è che per la prima volta si può fare una sola volta ma viene data la ricompensa di tre volte e mezzo quattro volte come se stessimo facendo le quattro volte giornaliere della roda di Trunks o anche di Gotenks ma ci viene data più o meno la stessa ricompensa facendolo una sola volta al giorno quindi senza fare quattro pallosissime battaglie contro Mr. Stan che si ricarica energia e ci viene data la stessa diciamo più o meno ricompensa la cosa interessante è che appunto ci viene data la stessa ricompensa di quattro battaglie quindi di otto energie semplicemente con due energie e questa è una cosa davvero molto interessante risparmio di tempo e di energia quindi questa la dovete fare tutti i giorni almeno cioè la volta che viene consigliata challenge battle la challenge battle ci ho provato una volta anzi e con questo team e in realtà ho tolto le due barre a Giniu e Gis ho ucciso Barter ma non l'ho completata ancora quindi di tempo ce n'è sempre poco si deve completare per stellarla entro 120 secondi quindi bisogna arrivare a 60 secondi massimo quindi se si arriva a 59 già non completiamo questa stella però vabbè ragazzi è una challenge su cui ci si possa ci si può abbastanza divertire e niente quindi fatemi sapere anche nei commenti voi come le completate le challenge ogni volta e come bonus character abbiamo visto che sono questi personaggi che hanno il bonus di attacco e difesa abbiamo Great Saiyaman 1 che ha un danno inflitto del 50% in più e una special move dell'80% in più mentre Great Saiyaman 2 ha un danno maggiorato dell'80% e un danno tagliato quindi un sostene damage cut quindi quando gli fanno danno lei riduce questo danno del 40% quindi una coppia che potrebbe essere utilizzata ma ovviamente sappiamo che in genere vengono ridotti i danni nei confronti degli avversari quando il personaggio non è colore avvantaggiato quindi questo più o meno è tutto quello che c'è da dire sulla rod i discorsi sulla rod sono più o meno sempre gli stessi ma io attualmente vi consiglio di farvi la rod di Trunks quindi ragazzi per il momento è tutto per quello che riguarda rod e great saiyaman 1 e ci spostiamo di grafica e andiamo a parlare di una cosa davvero davvero interessantissima veniamo ora alla news davvero 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 grande stavamo aspettando soltanto le scan ufficiali ed alla fine sono assolutamente uscite sono qui abbiamo la scan ufficiale diciamo proveniente dal vjump in cui vediamo due nuovi personaggi broly leggendario super saiyan e metal cooler quindi sono personaggi che con ogni probabilità faranno parte della prossima ultra space time infatti in alto vediamo il numero 12 tra tanti cioè tra tanti diogrammi se così si chiamano giapponesi e quindi sicuramente questi due personaggi probabilmente insieme ad un terzo personaggio che verrà magari annunciato più avanti non è ancora certo ovviamente vedremo questi personaggi appunto nella prossima ultra space time quindi successiva quella attuale di Dragon Ball GT due personaggi davvero interessanti perché comunque è curioso rivedere broly in questo modo è curioso chissà per quale motivo vedremo un altro broly e non lo so cioè sinceramente non so dove vogliono andare a parare visto che comunque è appena uscito appena in realtà no ma c'è un broly che continua a stare in top tra i personaggi più forti più forti del gioco e quindi non si sa perché un altro broly ma comunque potrebbe essere anche un indizio di altri personaggi in arrivo dal punto di vista dei movie dei film anche grazie appunto all'uscita adesso di Great Saiyan 2 e all'arrivo anche di Great Saiyan 1 quindi aspettiamoci davvero di tutto da parte di questo broly per quanto riguarda invece Metal Cooler abbiamo un personaggio che sicuramente che sicuramente ci che sicuramente ci ci sposta verso un Lineage of Evil che inizia a prendere realmente forma perché sicuramente questo Cooler avrà tag Lineage of Evil e sarà un quinto personaggio finalmente inseribile nel team considerando che tale team quindi Lineage of Evil è un team attualmente non molto utilizzato non fa parte dei top team ma comunque rimane un team bestiale grazie alla presenza di Cooler Blue Final Form quindi è un Ultra Space Time davvero insolita davvero interessante che cercheremo con il tempo di diciamo di analizzare meglio se arriveranno altre news o comunque vedremo direttamente in uscita di solito passa un po' di tempo effettivamente c'è ancora tanto tempo prima che se ne vada l'Ultra Space Time di GT perché vi dico che sarà Ultra Space Time perché se andiamo a vedere la rispettiva pagina dell'Ultra Space Time precedente quando fu annunciata per quanto riguarda Dragon Ball GT vediamo in alto a sinistra sotto la scritta Dragon Ball Legends un 11 ed effettivamente l'Ultra Space Time numero 11 quindi io vi dico sicuramente sarà Ultra Space Time di solito la percentuale quasi massima di tutte le volte che escono personaggi con i pentagoni sono assolutamente di un Ultra Space Time in più abbiamo un 11 qui e un 12 qui e quindi sono sicuro che ci possa essere un Ultra Space Time ovviamente non ci sono conferme di traduzioni che arriveranno nei prossimi giorni e una volta arrivata la conferma la troverete ovviamente in community evitando di fare un altro video troverete in community la conferma ufficiale che faranno parte dell'Ultra Space Time inoltre come sappiamo già dall'uscita dei personaggi Vegeta GT è giallo e nel pentagono il colore è blu Goten GT è verde e nel pentagono è giallo solo Rildo è stato preso che è rosso quindi non diamo retta a questi pentagoni e soprattutto ai colori appunto che troviamo qui nelle scan ragazzi con il video di oggi è tutto mi sono delungato anche fin troppo e fatemi sapere riempitemi di commenti fatemi sapere sempre tutto quello che pensate dei personaggi e ci vediamo ai prossimi video ciao ragazzi ciao